Siamo con coach Dante Boninfante al termine di una partita tesissima come era lecito e ci si aspettava per questa ultima gara di regular season tutte le partite valevano qualcosa e siamo quasi entrati in clima playoff si può dire ma assolutamente sì assolutamente sì perché comunque la conice di pubblico è stata molto bella era una partita importante per tutte e due le squadre loro per evitare i play out noi per guadagnare posizioni in classifica alla fine noi ci siamo riusciti abbiamo scalato un'altra posizione finiamo secondi quindi benissimo per il nostro cammino e soprattutto direi che vincere qua contro una squadra che ha giocato molto bene senza la nostra battuta è un onore in più ai ragazzi infatti è stata una partita molto difficile onore onore a Belluno onore anche a Prata che ha dovuto giocare ancora una volta con con Baldazzi al centro per cui fuori ruolo però tutti hanno dato quel qualcosa in più per portare a casa questo fantastico secondo posto sì sì ancora grande sacrificio di Baldazzi è stato molto bravo e generoso e quindi andiamo avanti sperando di recuperare tutti gli effettivi e per poi prepararci al meglio per i play off grazie Dante ciao